Buongiorno, bentrovati, nuova edizione del TG Noi Giorno. Partiamo dunque dalle notizie di oggi e torniamo su temi legati al lavoro. Sul destino della Corber, la grande azienda specializzata sui macchinari per la carta, partita la cassa integrazione, sono al momento una cinquantina i lavoratori che hanno già lasciato l'azienda e cerchiamo di capire meglio qual è la situazione in questo servizio. Ha preso il via la cassa integrazione alla Corber secondo gli accordi stabiliti la scorsa primavera quando l'azienda annunciò la necessità di procedere con 70 esuberi. Il provvedimento riguarda in maniera trasversale tutti gli attuali 430 dipendenti dell'azienda e sarà sottoposto alla verifica dei carichi di lavoro ogni due settimane. In questi mesi intanto già 50 lavoratori hanno lasciato la Corber aderendo al piano predisposto dagli accordi tra sindacati ed azienda. Una parte è andata in prepensionamento, un'altra invece ha intrapreso l'uscita volontaria. L'attenzione di sindacati di categoria ed RSU però è rivolta soprattutto all'immediato futuro e a una data precisa, quella del 2 novembre, quando diventerà effettivo il passaggio di proprietà tra l'attuale gruppo tedesco e quello finlandese della Valmet. Solo allora per i sindacati sarà possibile aprire un tavolo di confronto con i nuovi proprietari e capire le loro intenzioni, anche perché nel frattempo c'è un ulteriore passaggio da superare, che è quello del via libera dell'antitrust all'intera operazione. Con l'acquisizione della Corber di Mugnano, specializzata nella realizzazione di macchinari per la trasformazione della carta, la Valmet completerà il proprio ciclo produttivo nel settore cartario. Da capire però quale sarà la potenzialità che il gruppo finlandese vorrà lasciare al polo produttivo lucchese. E parliamo di riciclo della carta adesso con buone notizie perché la provincia di Lucca risulta fra le più virtuose in Toscana. Sentiamo. Lucca è tra le province toscane più virtuose per la raccolta differenziata di carta e cartone. In un anno ne sono stati raccolti in media più di 89 chili da ogni abitante per un totale di 34 mila tonnellate. Il risultato procapita è inferiore solo alla provincia di Prato che in un anno ha raccolto 154 chili di carta per abitante, 40 mila tonnellate, il dato complessivo, e Firenze con oltre 104 chili. Il dato più basso si registra a Massa Carrara dove sono stati raccolti in media da ogni cittadino oltre 62 chili di carta e 11 mila tonnellate complessive. È quanto emerge dal 28esimo rapporto annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia diffuso da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica che rivela ottimi risultati per la raccolta in Toscana. Complessivamente sono state avviate a riciclo più di 323 mila tonnellate di materiale cellulosico facendo registrare un aumento del 2,5% rispetto al 2021. Con un incremento di quasi 8 mila tonnellate a livello nazionale la nostra regione si distingue non solo per la media pro capite tra le più alte in Italia ma anche per il livello di intercettazione della frazione cellulosica sul totale dei rifiuti prodotti che si attesta sopra il 15%. Solo la Basilicata ha fatto meglio. E parliamo di turismo adesso. La Versilia spera negli stranieri di settembre dopo una stagione sottotono. Le stime delle associazioni di categoria vedono un segno meno tra il 10% e il 15%. Si cerca per quanto possibile di recuperare ma non basterà. La stagione baleare versiliese ormai agli sgoccioli iniziata con grande entusiasmo sulla scia del boom dell'anno scorso ha offerto come sempre ai turisti un'ampia gamma di opportunità per rilassarsi e godersi il clima della Versilia. Spiagge ben attrezzate, ottimi ristoranti e panorami e tramonti mozzafiato. Nonostante l'atmosfera accogliente e le numerose attrazioni c'è stata una leggera diminuzione del numero di turisti rispetto all'anno precedente che registrò una stagione memorabile. Non è stata la stagione dell'anno scorso ma neanche catastrofica. Avremmo avuto un 5% o meno di lavoro. Il settembre è così bello può in qualche modo recuperare quello che abbiamo perso in agosto e luglio? Quello dipende tutto dal flusso di stranieri se c'è il flusso di stranieri bene, se non l'abbiamo come si dice a Milano l'abbiamo nell'arena. Dobbiamo dire che siamo soddisfatti sì, molti italiani sono ripartiti per il mondo e questo è anche una cosa bella perché vuol dire che il mondo è ripartito ma allo stesso tempo tanti stranieri sono arrivati quindi la compensazione c'è stata noi siamo contenti e diciamo che anche su settembre siamo abbastanza fiduciosi. Questa diminuzione può essere attribuita a diversi fattori che verranno studiati e analizzati dagli addetti ai lavori. Tuttavia c'è motivo di ottimismo per il mese di settembre visto che molte strutture balneari versilesi si stanno preparando per accogliere un'affluenza di turisti in particolare stranieri. Il clima mite e la tranquillità di settembre offrono un'opportunità ideale per coloro che desiderano godersi la Versilia senza le folle estive. E Lucca intanto si prepara invece alla Santa Croce alla tradizionale processione con delle novità su tutte il ritorno dei lumini a cera almeno in parte del percorso. Sentite. Palazzi e negozi che si affacciano lungo il percorso principale della processione di Santa Croce da quest'anno torneranno a illuminarsi con i tradizionali lumini in cera. L'amministrazione comunale così come espresso sin dal suo insediamento è riuscita a rimettere in magazzino almeno una parte delle lucine a led che continueranno però per il momento ad essere utilizzate in alcune strade interessate dal corteo. Dal 2019 l'atmosfera di questa manifestazione era stata alterata dall'introduzione dei lumini a led lo scorso anno da poco insediato avevamo subito espresso la volontà di tornare alla tradizione e quindi siamo felici nonostante diverse criticità di avere già rintrodotto parzialmente i lumini a cera da questa edizione che copriranno una parte importante del tragitto come via Fillungo e piazza San Martino. Poi nei prossimi anni l'obiettivo è quello di coprire integralmente il percorso. Per rendere ancora più capillare la luminara del 13 settembre l'amministrazione invita cittadini e commercianti a ritirare i lumini a cera da porre sulle facciate di negozi e case. La distribuzione è in calendario dal 9 all'11 settembre al punto di accoglienza turistica di Piazzale Verdi dalle 11 alle 17. Ma quella dei lumini non è la sola novità di quest'anno dopo l'annuncio che la celebrazione e il motettone non si terranno all'interno della cattedrale Malla Aperto in piazza San Martino per la presenza del cantiere di restauro del Volto Santo nel transetto nord del Duomo. La notizia che ad aprire il corteo non sarà lo standard originale bensì una copia. Nonostante il gigantesco vessillo sia stato sottoposto al restauro una decina di anni fa le sue fragili condizioni non consentono di utilizzarlo per dare il via alla processione così come consuetudine dal 1890. Spostiamoci a Barga adesso dove parte il weekend dedicato alla Scozia. Nella città più scozzese d'Italia come la ribattezzò tanti anni fa l'allora sindaco Umberto Sereni non poteva mancare un intero fine settimana dedicato alla Scozia. Arriva infatti il Barga Scott Weekend l'appuntamento nell'antico castello di Barga nei giorni 8 9 e 10 settembre. Nelle tre giorni tanti eventi appuntamenti a tema e al sapor di Scozia. L'8 settembre alle 17.30 l'inaugurazione e l'apertura nel centro storico degli stand con prodotti tipici scozzesi acquistabili non stop nella tre giorni. Nell'occasione musicisti e ballerini riempiranno le vie alle piazze del centro storico con musica e balli scozzesi fino a sera. Durante il pomeriggio e la serata poi anche i tanti altri incontri culturali musicali e non solo. Sabato 9 settembre ancora una Barga scozzese tra i vari momenti alle 16 a Palazzo Balduini mini corso e degustazione di whisky alle 17 nelle vie del castello e di nuovo in scene e gruppi di musicisti e ballerini scozzesi. In giro per Barga Vecchia poi degustazione di birra scozzese incontri letterari e la sera finale in bellezza alle 21 sulla terrazza del museo le stanze della memoria con Barga a 6 di dance serata danzante scozzese. Il gran finale poi domenica 10 settembre tra i vari momenti incontri e degustazioni alle 15 nel centro storico la sfilata di cornamuse e tamburi della Royal Highland Company Pipes & Drums durante la tre giorni sarà possibile degustare prodotti tipici anche nei locali della cittadina che propongono un menù speciale per l'occasione. Tra poco le notizie sportive ma vi anticipo e vado così su NoiTV.it la notizia dell'annullamento che già vi abbiamo dato in queste ore della presentazione della lucchese in memoria di Diego Checchi la società infatti ha deciso di annullare la prevista presentazione della squadra come già sapete doveva svolgersi oggi a Real Collegio decisione presa appunto per onorare la memoria di un uomo straordinario Diego Checchi un simbolo così si legge in una nota diffusa dalla società rossonera simbolo del giornalismo lucchese grandissimo tifoso dei colori rossoneri scomparso pochi giorni fa e ricordiamo a proposito che il funerale di Diego Checchi si terrà alle 15 di oggi nella basilica di San Frediano e poco prima il feretro sosterrà davanti alla tribuna del Porta Elisa praticamente una seconda casa per Diego Checchi qua mi fermo per il momento vi lascio appunto alle notizie sportive del TG noi ci rivediamo subito dopo per la terza parte con gli eventuali aggiornamenti a più tardi grazie a tutti Grazie a tutti.